Sostituzione per l'Inter Neymar si prepara a battere a rete E' la distanza ideale per trovare Neymar! Ma incredibile! Con l'incredibile! Potrebbero ancora ricorrere a forze fresche dalla partita Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però Al centro c'è sempre meno spazio Bisogna essere precisi e veloci nel passaggio Prova a scavacare avversari con una palla lunga Lui non è tipo da prendere rischi inutili in difesa Prova a indeccare lo scatto sul fondo Occhio alla conclusione E' un vantaggio importante Arrivati a questo punto della gara Aggressività e verticalizzazione Può sembrare semplice ma riuscire a fare tutto con i tempi giusti E' sintomo di grande condizione fisica e preparazione tattica Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che cosa?